Ricomincia l'Odissea sull'A14. Dopo il lockdown si torna alla normalità anche lungo l'autostrada adriatica, una normalità fatta di rallentamenti e code chilometriche. Ieri, in una delle primissime domeniche utili per andare al mare, si sono formate lunghe file di automobili e camion, in particolare tra Francavilla al mare e Pineto. I rallentamenti sono causati da diversi cantieri lungo il tratto autostradale. E nei prossimi giorni la viabilità abruzzese potrebbe aggiudicarsi un altro bolino rosso. Questa settimana infatti sono previsti la manutenzione della Galleria Solagne e lavori volti a potenziare gli impianti della Galleria Collepino, lavori che rientrano nel piano di interventi obbligatori. A causa di questo cantiere l'autostrada sarà chiusa per tre notti, da mercoledì a venerdì, in entrambe le direzioni. Il tratto dell'A14, che non sarà percorribile, è quello tra il casello Pescara Nord Città Sant'Angelo e il casello A Tripineto, dalle ore 22 alle ore 6. Prendete la statale, il consiglio di autostrade per l'Italia. Ma gli autotrasportatori sono già esasperati, perlomeno fate sconti sui piedaggi, chiede CNA Fita Abruzzo, l'associazione di categoria. Chi infatti le autostrade le solca per lavoro è obbligato dalla legge a soste cadenzate, anche se il mezzo è stato effettivamente fermo in coda per ore. Benvenga la messa in sicurezza, dichiarato il presidente regionale Gianluca Carota, ma bisogna capire i problemi degli autotrasportatori, specialmente in questa fase di ripartenza in cui bisogna assicurare un'efficiente e tempestiva mobilità delle merci lungo la penisola.